Aggredisce il padre acquisito di 74 anni per denaro e finisce in manette con l'accusa di sequestro di persona, rapina, lesioni lieve e violazione di domicilio. Protagonista della vicenda, un 52enne di Pesaro arrestato dalla polizia che aveva ricevuto la denuncia da parte dell'anziano il 4 aprile scorso. Il 52enne era appena tornato da Cuba e per una mancanza di soldi dopo il viaggio è andato a bussare alla porta della madre. La donna che ha 70 anni si accorta subito che il figlio aveva poca intenzione di abbracciarla e festeggiare. Infatti è andato subito al sodo chiedendo denaro sia a lei che al suo compagno ma lì si è accesa una discussione. Agli agenti che hanno ricostruito i fatti il pensionato aveva raccontato che rientrando in casa era stato avvicinato dal figlio con il quale da tempo aveva rapporti tesi. Il 52enne dopo avergli chiesto con modi bruschi del denaro al suo rifiuto lo aveva aggredito gettandolo a terra e procurandogli delle abrasioni fra cui anche una lieve fierita una mano. Poi gli aveva sottratto dal portafogli 200 euro in contanti e non soddisfatto dell'entità della somma lo aveva costretto a salire sulla sua auto e a raggiungere uno sportello banco ma dove dopo avergli estorto il PIN aveva fatto un prelievo di 500 euro. Infine prima di lasciarlo libero lo aveva costretto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale il 74enne si impegnava a versargli entro pochi giorni 5000 euro nonché a corrispondergli mensilmente 1000 euro per 7 anni per il suo sostentamento. Prima di andarsene l'uomo aveva preso le carte di credito della vittima e le aveva intimato di non denunciare l'accaduto. Gli agenti hanno trovato l'aggressore in una cantina di proprietà del patrigno nello stesso condominio in cui l'anziano abita dove si era sistemato all'ammino peggio essendo senza casa. Assolutamente situazioni del genere sono da condannare, da reprimere e insomma anche un messaggio a persone che si trovino nella stessa situazione che non è assolutamente una soluzione questa pur in un momento così difficile andare insomma contro la norma, contro la propria famiglia utilizzando metodi insomma diciamo così estremi, assolutamente non compatibili, non confacenti a un affetto familiare, a una vita familiare. L'uomo che alla vista dei poliziotti non ha opposto a resistenza è stato arrestato e portato nel carcere di Villa Fastigi mentre la rifurtiva è stata riconsegnata al proprietario. Grazie Grazie